domenica 4 febbraio nel primo anniversario dell'inizio del ministero episcopale di sua eccellenza monsignor giuseppe giuliano nella diocesi di lucera troia il vescovo ha presieduto la santa messa capitolare delle ore 12 nella basilica cattedrale di lucera durante la quale sono stati insediati due nuovi canonici si tratta di don mario de crescenzo parroco emerito della parrocchia dei santi pietro e nicolò in casa al nuovo monterotaro e di don domenico fanelli attuale parroco della parrocchia di san giovanni battista in lucera l'insediamento arriva a completamento del numero dei canonici del capitolo cattedrale lucerino resosi mancante di due unità in seguito alla morte di don antonio di foggia e dell'elezione di don ciro fanelli a vescovo di melfi rapolla venosa monsignor vescovo durante l'omelia ha ricordato la specificità di ogni canonico del capitolo cattedrale ossia quella di essere uomini di preghiera affinché ogni giorno possano seminare e raccogliere per i granai del cielo